Si impone con merito la vismeda di Costone al palasporta estra al cospetto di un'amene scuola baschettarezzo costretta sempre a rincorrere gli avversari. Priva di Castelli, la sbandono avuto un approccio determinato all'incontro, gli ospiti partono subito forte trovandosi dopo 5 minuti di gioco sul più 8 tra i 15. Poi con qualche guizzo individuale gli amaranto ritornano a contatto 17-20 al decimo senza però riuscire a cambiare il ritmo imposto dagli avversari. All'intervallo lungo Siena, grazie a tante seconde opportunità conquistate a rimbalzo in attacco, mantiene il vantaggio 33-39. Nel terzo parziale il miglior momento dei padroni di casa che riescono a coinvolgere maggiormente Cutini, riuscendo per la prima volta ad andare in vantaggio. 43-42 la vismeda di Coach Braccagni però non sbanda neanche quando la tripla di Provenza, l'adinizio ultimo quarto, manda sul più 5 l'Amen 54-49. Sembra poter dare un'impronta diversa al match ma purtroppo quello siglato dal player Etino sarà incredibilmente l'unico canestro dell'Asba negli ultimi 10 minuti di gioco. Così pur tenendo in difesa Bruttini e Tognazzi, sono Ceccatelli ed Angeli a guidare il costone verso un successo che minuto dopo minuto è diventato ancora più meritato. L'incapacità della squadra di Coach Delia di trovare il canestro con un misero 1 su 17 dal campo dell'ultimo quarto lasciava il via libera alla vismeda di che chiudeva la partita sul 63-54 trovando un successo importante che da morale giallo-verdi senesi. In casa Maranto il campanello d'allarme dopo due passi falsi interne di file è suonato. Adesso starà tutta la squadra e lo staff tecnico a lavorare in palestra per superare questo momento e presentarsi con maggiore determinazione alla difficile trasferta di domenica prossima in casa della capolista Prato. Oggi la percentuale di realizzazione è stata bassissima, neanche il 36%. Sì, sicuramente. Ringrazio Braccagni per i complimenti, però secondo me io ho visto tanta partita. Non siamo stati senza nulla togliere i ragazzi, però non hanno giocato come sanno giocare. Abbiamo perso la partita, onore a loro perché hanno saputo gestire la partita sin dall'inizio. Noi purtroppo facendo tre punti nel quarto periodo non puoi recriminare niente, assolutamente niente. È una partita andata storta, non è da addossare la colpa a uno o due in particolare. La squadra non ha girato e purtroppo è andata così.